Con la riforma del mercato del lavoro del governo Renzi, anche la provincia di Bolzano è chiamata ad attuare qualche modifica per quanto riguarda l'ordinamento dell'apprendistato. Il relativo disegno di legge è stato approvato dalla giunta provinciale, prevista una norma ad hoc per consentire l'esame di maturità all'interno della formazione duale. Apprendisti e lavoro funziona il modello altotesino della formazione. Il 90% di tutti i contratti di apprendistato sul territorio nazionale viene stipulato in Alto Adige. Il testo di legge prevede tre tipi di contratto di apprendistato. Apprendistato per qualifica e diploma professionale, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta formazione e ricerca. Nell'anno scorso abbiamo stipulato, abbiamo sottoscritto un patto per l'apprendistato per soprattutto aumentare il numero complessivo di contratti di apprendistato di primo livello. Adesso questa possibilità di conseguire mediante un apprendistato il diploma di secondaria superiore è sicuramente un passo molto importante anche per questo. La Giunta Provinciale ha dato il Via Libera alla stipula di una convenzione con rete ferroviaria italiana per proseguire nella realizzazione di progetti di miglioramento della mobilità ciclistica attraverso nuove piste ciclabili lungo le linee ferroviarie. La provincia prosegue nel programma di sviluppo della rete delle piste ciclabili pubbliche nell'interscambio modale e dell'uso combinato treno bicicletta. Abbiamo spesso la necessità di chiedere l'autorizzazione RFI per la riduzione delle distanze nella costruzione delle piste ciclabili perché le nostre valate sono piuttosto strette. È una procedura molto lunga e lavoriosa, purograttica. Adesso con questa convenzione avremo un modo, una corsia preferenziale per l'approvazione di queste deroghe, di queste autorizzazioni, anzi come principio si considerano già approvate. RFI in futuro solo con motivazione potrà negare questa riduzione delle distanze, cioè abbiamo invertito il principio. L'assistenza medica degli ospiti delle residenze per anziani in Alto Adige sarà migliorata attraverso una presenza costante e chiaramente strutturata. È questo l'obiettivo della delibera approvata dalla giunta provinciale. Abbiamo concordato adesso con la rappresentanza dei medici un nuovo sistema che prevede una remunerazione che ammonta 80 euro per l'ora di servizio prestata presso una casa per gli anziani, ma che siano al minimo due o al massimo cinque medici. Si mettono d'accordo tra di loro in base a criteri oggettivi, anche cioè il numero di pazienti che avevano precedentemente nel loro registro. A seconda di questi saranno i medici, saranno individuati chi segue poi questi pazienti, saranno però non più di cinque e non meno di due, a seconda anche ovviamente dell'ordine di grandezza della struttura. Un nuovo laboratorio sensoriale all'interno del quale analizzare al meglio i prodotti made in Suttirol verrà realizzato presso il centro di sperimentazione di Leinburg e costerà 600 mila euro con un cofinanziamento dell'Europa. Su proposta dall'assessore Arnold Schuller, la giunta provinciale ha dato il via libera al programma volumetrico.